buongiorno a tutti Siamo qui a Biancolatte, primo brunch birthday e stiamo aspettando la festeggiata quale colore vuole dire? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Siamo andando a prendere dei fiori. Ecco ragazzi, dei fiori gratis, grazie al mio sponsor. Sì. 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 Ciao ragazzi, siamo qui a Mabuhai, dopo due ore di camminata, siamo qui perché c'è manifestazione, quindi dobbiamo mangiare. Sì. Allora qui cosa abbiamo, shomai, barbecue, poi abbiamo fishball, poi l'umpia e questo ragazzi è queque. E niente, buon appetito raga. Sì. 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 Sì.